Buonasera a tutti, sono Maria Pesatuccio da Circo Nascendero. Dalle 2021 abbiamo iniziato a parlare di transizione ecologica e abbiamo organizzato una serie di conferenze con esperti su questi argomenti. Circo Nascendero, trovate tutte le conferenze che sono state fatte in questi anni con un relativo link dove è possibile trovare le informazioni sulla conferenza e il link per rivedere la registrazione su YouTube. La conferenza di questa sera riguarda in particolare il nucleare. Perché siamo tornati a parlare di nucleare? Con questo miniciclo che è iniziato il mese scorso. Perché da un po' di tempo si parla di nucleare. Se ne parla da quando l'Europa per esempio ha inserito il nucleare nella stazionomia europea cioè in quell'insieme di metodi, di cose che sono considerati sostenibili e che possono essere finanziati. Si è parlato di nucleare alla COP28 alla fine del 2023 a Dubai quando la COP28 ha stabilito, ha deciso che il nucleare può essere inserito in quel mix energetico che dovrà sostituire i combustibili fossili per non avere più produzione di CO2. In questo contesto si inserisce il film di Oliver Stone. Questa è la locandina del film Nuclear Now che è stato presentato al Film Festival di Torino a novembre scorso acquistato dalla Sette e trasmesso e messo a disposizione sui canali della Sette. A questo indirizzo lo potete trovare e rivederlo e vederlo. Il film di Oliver Stone è un documentario, è un documentario propagandistico di pura propaganda che illustra le magnifiche sorti del nucleare e con faccioneria, vendendo cose che ancora sono da realizzare comunque lasciamo a voi il giudizio noi abbiamo pensato di interrogare, cioè conversare con tre esperti per cercare di non cadere nell'inganno per cercare di chiarire le semplificazioni più banali più fuorvianti che fa il film. Il primo è stato Nicola Armaroli qui trovate la registrazione sul canale YouTube dello Zenzero e anche di Ecoistituto e questa volta è il turno di Mario Agostinelli con cui affronteremo il tema. Mario Agostinelli è un amico che soprattutto ringrazio molto per aver accercato il nostro invito è un amico con cui è stato ricordo parecchie volte nelle conversazioni degli anni precedenti Agostinelli è un chimico fisico appena laureato ha lavorato all'Enea e forse già lì ha cominciato a praticare il nucleare a capire di cosa si trattava è stato sindacalista della CGL consigliere regionale in Lombardia e oggi è presidente dell'associazione Laudato Si e portavoce del Comitato Mondiale per l'Energia e il Clima. A questo punto vi chiederei la cortesia di chiudere i microfoni e possibilmente anche il video perché la banda non è mai abbastanza larga e vi chiederei la cortesia a fine conferenza di porre le domande in un chat interrompo la condivisione e passo la parola a Federico per dare il via alla conversazione a te Federico bene grazie Maria Teresa grazie Mario per aver partecipato grazie a voi per questo incontro e cominciamo allora a vedere ma tu il film di Oliver Stone l'hai visto? sì l'ho visto e ne sono rimasto impressionato ma nello stesso tempo ho apprezzato moltissimo il fatto che voi lo diffondiate perché lo sito di scuta e si possa confutare quindi è un'ottima iniziativa la vostra bene allora senti io cominceravo con te nel film di Oliver Stone lui come dire parte dallo spirito dei fratelli Wright i fratelli che nel 1903 fecero dopo direi molti studi molto interessanti perché loro per primi capirono quale strada bisognava percorrere per poter permettere a un oggetto più pesante dell'area di volare e di lì appunto 150 anni fa è partita l'avventura dell'aviazione questa cosa la usa perché pensa sostanzialmente dire se ce l'abbiamo fatta come fratelli Wright ce la faremo anche con questo nucleare su cui poi parleremo dopo ecco che tu che impressione hai avuto dell'uso di questa di questa appunto impresa americana peraltro beh assolutamente la distanza enorme tra le forze che sono coinvolte nel volo cioè la gravità e le forze che sono coinvolte invece per l'energia nucleare cioè la fissione o la fusione danno luogo una prima riflessione cioè è possibile controllare con la velocità e con la disponibilità della mente umana la forza che la natura ci mette a disposizione a livello macroscopico ma non certo è possibile scindere quella elemento di fondo di cui siamo costituiti cioè noi siamo polvere di stelle che è tenuta insieme da una forza miliardi di volte più intensa della forza di gravità che Oliver inserisce nel suo discorso noi siamo polvere di stelle si lo dice anche il Papa inlaudato si però ecco vorrevo proprio qui fare una prima riflessione con voi cioè l'idea che Ston vuole comunicare è che siamo disinformati e che siamo presi da paure perché ci sono stati alcuni incidenti e gli incidenti in effetti non hanno paragone con il fatto che i primi aerei barcollassero sui campi da cui prendevano il volo ma hanno tempi di rilassamento e forza intensità di devastazione della natura che sono assolutamente non correlabili ai tempi biologici e storici cioè tra la nostra vita e i tempi dentro cui la fissione nucleare o la fusione nucleare esplica tutta la forza che emana dai procedimenti a cui è sottoposta durano al di sopra di qualsiasi immaginazione la nostra mente possa mai avere acquisito cioè vi faccio un esempio il decadimento del plutonio di centinaia di migliaia di anni e noi abbiamo cominciato a scrivere soltanto cinquemila anni fa ecco non saprei come altro in maniera più diretta ecco anche farvi capire cioè se pensate agli uomini che nelle caverne disegnavano i bufali quasi duecentomila anni fa ecco sarebbero lontanissimi dalla contaminazione di chiunque avesse usato prima di loro per qualche centinaia di migliaia di anni il plutonio certo che problema questo è un tema su cui Stone grissa proprio non ne parla proprio cioè accenna rapidamente a quelle di più rapidamente credo che sia l'elemento più deboli della sua comunicazione non parla quasi mai delle scorie e di come le scorie possono essere non dico eliminati perché non sono eliminabili ma perlomeno neutralizzate e questo è il problema che non fa della nucleare sicuramente la base dello spirito dei fratelli Wright e di fatti il racconto si sposta rapidamente verso qualcosa che non c'è ancora o la quarta generazione ce la puoi spiegare perché si parla di quarta generazione e si parla anche di questi smr che poi dei piccoli reattori nucleari ecco io ho lasciato una serie di slide che se vuole maria teresa può far vedere parlo della numero tre e della numero quattro che però io vi posso illustrare cioè tenete conto che la forza che tiene insieme il nucleo atomico è spaventosamente pensate le bombe atomiche ad esempio insomma pensate a cos'è è spaventosamente più grande di quanto i nostri sensi siano in grado di percepire e di quanto la nostra struttura biologica possa sopravvivere allora per avere un'idea di questa tenete conto che se il nucleo fosse grande come una palla da tennis l'elettrone sarebbe un granello di sabbia che ruota attorno a questa palla da tennis a un chilometro di distanza e le forze che tengono uniti i quark cioè gli elementi più interni i neutroni i protoni del nucleo sono tali da non essere mai stati scissi prima dell'operazione che è stata in un certo quel modo convincente in modo convinto tradotta dalla reazione a catena e dalla principi di quantistica che sono stati introdotti all'inizio del 1900 ecco per dare un'idea della potenza e delle diversità di potenza avere la fusione di un grammo di idrogeno equivale avere la combustione istantanea di 5000 tonnellate di carbone ovvero la caduta di un terzo di tutta la massa d'acqua del lago di Zeo da 1000 metri allora se noi lo traduciamo con queste immagini assolutamente percepibili dalla nostra immaginazione capiamo che il processo che riguarda il nucleare rende alla natura effetti che nel tempo non si diluiscono assolutamente secondo i processi a cui noi siamo abituati cioè tenete conto che se avessimo una cascata d'acqua della potenza che vi ho detto da 1000 metri avremmo distrutta l'intera pianura padana beh in fondo incidenti come quelli di Chernobyl o incidenti come quelli di Fukushima hanno una portata che nel tempo non è molto dissimile da questa paurosa come si può dire immaginazione noi abbiamo la condizione che siamo riusciti in qualche modo a tenere sotto controllo questa potenza enorme sì perché noi siamo riusciti a interporre tra i neutroni che vengono rilasciati per fissione dall'uranio 235 bombardato a interporre grafite o boro o altri elementi che li rallentano e permettono di riprodurre rallentati un'ulteriore un'ulteriore reazione su un altro nucleo vicino a quello precedente da cui erano partiti questa reazione a catena che si può controllare e che valsa il premio Nobel a fermi ha però all'interno di queste componenti che vengono così esplicitate una potenza e una forza che se viene liberata è assolutamente incontenibile cioè noi siamo di fronte a una tecnologia che se non è moderata non è in grado di essere più contenuta cioè è come se una macchina una volta che venisse accelerata continuasse a accelerare senza la possibilità mai di poter essere ecco ma con la quarta generazione con questi SMR questi piccoli ecco allora provo a ricostruire un po' questa vicenda la reazione a catena è una reazione molto complessa che viene contenuta attraverso acqua pesante attraverso altri elementi e con un raffreddamento straordinario che se viene a mancare porta senza altro la reazione a non essere più contenibile cioè il problema ad esempio principale che hanno avuto sempre i reattori che sono stati costruiti è stata quella di avere una sufficiente quantità di materiale di raffreddamento per poter contenere l'enorme quantità di calore che viene emanata nella reazione ecco in questo tentativo si è evoluta continuamente la tecnologia e si è passata da primi reattori che erano moderati come quello di Chernobyl a grafite a reattori che invece sono stati resi un pochino meno pericolosi ma non sicuri cioè si è messi ad esempio sotto forte pressione quindi sotto pressurizzazione si è circondati di elementi difficilmente perforabili da parte dei neutroni in modo da far sì che la fusione eventuale dovuta al non raffreddamento dell'idrogeno del nocciolo fosse per certi versi fermabile e contenibile l'evoluzione di questi sforzi ha creato reattori di prima generazione di seconda e oggi quelli di terza generazione che sono complicatissimi che sono oggi in azione essenzialmente solo in due siti uno a Ortiluoto in Finlandia e l'altro ancora in costruzione in Francia e hanno dei sistemi di software così complicati da avere costretto continuamente a modificare la progettazione di fatti erano progettati da arrivare perché entro cinque anni entrassero in funzione la loro entrata in funzione è nel caso della Finlandia avvenuta solo sedici anni dopo e oggi è di nuovo ferma quella a Cadarash è tuttora dopo quindici anni non completata e allora si è tentato di avere un ulteriore grado di sicurezza parlando quindi di quarta generazione cioè questi reattori di terza generazione non sono evidentemente dal punto di vista dei costi dal punto di vista del rischio assolutamente affidabili ancora si è pensato di costruire dei reattori di minore potenza che potessero per costruzione essere interrati e possibilmente nel caso in cui salisse la temperatura potessero essere spenti cioè attraverso che so acqua borata attraverso delle forme di blocco della reazione e questi reattori cosiddetti di quarta generazione naturalmente a potenze più ridotte perché altrimenti non si potrebbe pensare di poter frenare una reazione a 1600 megawatt ma si è pensato di costruire reattori da 300 400 megawatt che verrebbero si dice abbinati cioè costruiti direttamente in fabbriche apposite e poi depositati accanto ai luoghi dove vengono utilizzati e quindi dovrebbero comporre praticamente la rete elettrica con il grado di potenza che dà il massimo di possibile sicurezza per quanto riguarda reattori nucleari quarta generazione e smr sono due sinonimi sostanzialmente sostanzialmente non cioè gli smr sono la versione di piccola dimensione di quella che dovrebbe essere la quarta generazione che ancora non c'è su quello c'è una domanda quindi gli small reactors non esistono li stanno cercando di costruire e secondo Riccardi che è il responsabile del gruppo italiano che se ne occupa in modo particolarmente attivo non sono commerciabili almeno entro 10 12 15 anni sì scusami entro 10 12 15 anni l'IPCC ripete che noi saremmo già in piena crisi climatica tema che non abbiamo tempo quindi questa idea di usare il nucleare e di ricorrere al nucleare è più né meno che una come si può dire una scusa per non gettare tutte le energie oggi sulle rinnovabili che invece sono infinitamente non solo più sicure ma sono decentrate e non lasciano scorie questo è il problema producono elettricità direttamente al di sopra delle nostre teste non hanno bisogno nemmeno di trasporti non hanno bisogno di estrazione non hanno bisogno assolutamente di contenitori particolari che le vertice hanno questo andamento discontinuo d'inverno non funziona di notte pure quindi è vero le rinnovabili hanno questa caratteristica ma da tempo si sta non solo rimediando questa caratteristica ma si va nettamente migliorando le loro prestazioni cioè inizialmente un pannello solare non rendeva assolutamente neanche un terzo di quanto rende un pannello oggi che costa un decimo di quello di 15 anni fa ma la cosa più interessante ancora se volete è che l'impianto complessivamente costa assai di meno e è assolutamente riconvertibile cioè se noi lasciamo o disseminiamo piccoli reattori in tutto il territorio avremo il problema di dover recuperare le scorie di questi piccoli reattori e di confinarle tutti in un unico deposito quindi trasportarle quindi averne una Brignole una Zoagli una Genova perché dico questo perché il grande mercato e credo che Oliver Stone lo sapesse bene quando gli hanno chiesto di organizzare questa sua pubblicità nucleare il grande mercato per i piccoli reattori nucleari sono i cloud che serviranno per l'intelligenza artificiale e ce l'ho un po' meglio questa cosa allora l'intelligenza artificiale è un modello di algoritmo e di utilizzo di una enorme quantità di dati che su base statistica analizza tutte le probabilità che una certa decisione possa centrare l'obiettivo che si è data e è possibile avvicinare questa probabilità a un successo solo se si usa un sistema estremamente potente quindi i chip ad esempio che devono essere utilizzati in questo caso consumano così dice Google ad esempio almeno tre volte tanto i chip normali e guardate che abbiamo milioni di chip all'interno di un telefonino ecco e gli algoritmi che dovrebbero elaborare queste decisioni su una enorme quantità di dati sono estremamente complicati e quindi le loro memorie devono essere continuamente alimentate da elettricità e raffreddate nello stesso tempo quindi l'idea ad esempio che i piccoli reattori nucleari possono essere abbinati ai big data ai cloud di google o quelli di aruba non so noi ne abbiamo anche non so negli Stati Uniti sono 246 i cloud ad esempio a cui fa riferimento google e microsoft ecco l'idea che balenata a Elon Musk e a questi grandi protagonisti dei big data è di affiancare alle loro depositi dei dati che vengono presi direttamente dalle nostre conversazioni dai nostri telefonini dalle nostre ricerche e alimentate non più da fossili o da rinnovabili che a loro giudizio potrebbero nel caso dei fossili portarci sicuramente con il raddoppio di consumo di elettricità a una crisi climatica ancora più devastante ma con le rinnovabili dovrebbero risolvere problemi di continuità e questa cosa è già molto più avanti rispetto alle prospettive di costruire dei piccoli reattori nucleari cioè oggi una para eolica come quelle che verranno messe cività vecchia a sostituire turbogas che inizialmente Eni aveva già inserito nel piano energetico nazionale ecco queste pale producono naturalmente energia quando tira vento ma ne producono anche in eccesso quando ne producono in eccesso vengono assistite ad esempio da idrolizzatori che l'energia che viene scaricata in eccesso la trasformano in idrogeno che viene conservato per essere utilizzato come combustibile nelle pile delle automobili ad esempio oppure per il riscaldamento o ancora quando è eccessiva la produzione perché c'è troppo sole o perché c'è sempre più caldo come sta succedendo purtroppo in questi anni si può l'eccesso di elettricità caricarla come energia potenziale e gravitazionale caricando i bacini d'acqua cioè costruire cosa che c'è già tra l'altro in tutte le Alpi dei bacini di pompaggio che quando l'elettricità di notte ad esempio non viene usata carica invece direttamente respinge ributta dentro i bacini l'acqua che il giorno dopo torna a cadere e quindi dà continuità alla discontinuità della delle rinnovabili cioè le rinnovabili si possono dire hanno effettivamente come loro limite una certa discontinuità ma tutti devono avere a riferimento non una sola tecnologia delle rinnovabili ma le tecnologie più adatte ai singoli territori e spesso sono un mix di tecnologie che risolvono il problema di una comunità energetica mettere magari un po' di eolico sui capannoni mettere sopra i supermercati al comune mettere le palle eoliche ad esempio dove tira più vento vicino al mare utilizzare una cascata d'acqua quando c'è un ecco la distribuzione delle energie naturali è territorialmente abbastanza continua ma è stabile soltanto che bisogna compensarla e non c'è niente di meglio della capacità dell'intelligenza artificiale se volete cioè dei computer per distribuire nel miglior modo possibile l'intelligenza non abbiamo bisogno proprio per fare queste cose che stai dicendo però hanno bisogno anche di tanta quantità di energia quindi come dire sicuramente energie rinnovabile noi di fatti non possiamo continuare a pensare che continua a aumentare il consumo di energia bisogna da qualche parte che questo consumo venga ridotto allora ad esempio organizzare le energie rinnovabili attraverso una forma comunitaria come le comunità energetiche significa almeno nella mia esperienza quella che sto facendo a Civitavecchia rendere possibile quasi il dimezzamento del consumo complessivo di energia nel territorio se stessi d'accordo di tornare un attimo indietro con i piccoli reattori perché nel film si dà molto spazio all'esperienza di questo ammiraglio mi pare di Cover il padre dei piccoli reattori dei piccoli reattori sui sommergibili nucleari ho fatto una piccola indagine diciamo abbiamo costruito 900 sommergibili nucleari a livello mondiale oggi che sono in funzione 500 effettivamente hanno potenze tutto sommato piccole i dati che ho visto si va da 85 megawatt dall'ultimo appunto fino a appunto 200 circa della portaere Nimitz questa esperienza c'è la mia domanda ma come mai che non abbiamo nessuna nave nave civile nave civile che va all'energia nucleare visto che è così appunto sicura economicamente valida e così via infatti il trucco è un po' questo cioè i militari possono sopportare l'idea di navigare su mezzi che hanno al proprio interno proprio come elemento intrinseco il rischio nucleare perché da loro la capacità di grande autonomia e la possibilità tra l'altro anche di fornire energia balistica all'istante difatti tutti questi sommergibili sono in gran parte in movimento e molti sono anche quelli russi che sono in movimento nei mari praticamente in posizione tale che se si fosse un allarme nucleare siano già entro un tempo segnalato di otto minuti capaci di lanciare un ordigno nucleare ma nessun civile credo farebbe volentieri una crociera su una nave che ha al proprio interno uranio 235 e la possibilità sotto la propria piscina di avere delle barre di uranio fissile o di plutonio addirittura nel caso degli autofertilizzanti quindi nessuno si è mai immaginato di poter utilizzare una propulsione nucleare al di fuori dei militari i quali già contemplano il trasporto ad esempio di armi nucleari o la conservazione o i depositi nucleari non so noi li abbiamo a Ghedi ad esempio li abbiamo a Viano e combattiamo questa questione tra l'altro veramente spaventosa che viene trascurata cioè in un tempo come questo noi abbiamo qualcosa come 60 bombe B61 pronte all'uso a 30 chilometri da Brescia ecco ma nessun civile vorrebbe viaggiare su un mezzo mobile che contenga al proprio interno qualcosa di radiattivo assolutamente nel film di sto un altro tema che non viene affrontato i costi dell'energia elettrica prodotta gli impianti perché a loro volta moltiplicheranno la necessità di controlli e anche quello di stoccaggio adeguati di tutti i loro scori anche qui al di là del fatto che non ce ne sono ancora e quindi non abbiamo la possibilità di fare dei conti sono dati reali che informazioni abbiamo l'unica informazione davvero affidabile è la dismissione di un reattore in Scozia che è costata di più della costruzione del reattore stiamo parlando però di un reattore un reattore di prima generazione e quelle di quarta sarebbero diverse secondo te no credo che sarebbe addirittura più complicato perché dovremmo innanzitutto avere un controllo quasi militare del territorio no perché li dovremmo distribuire in tanti e poi dovremmo trasportarli cioè io ho assistito durante una manifestazione al trasporto di treni da Trino Vercellese grosso modo attraverso fino a la di Cadarassi in Francia è un trasporto militare di una complicazione enorme che chiude il tratto ferroviario per due giorni cioè nessuno passa su quei binari per due giorni per tema di qualsiasi incidente possa succedere quindi i piccoli reattori nucleari hanno due qualità assolutamente non invidiabili la prima è che sono estremamente costosi cioè il kilowattora prodotto da un smr oggi secondo Elon Musk costa quasi dodici volte il kilowattora prodotto da un pannello solare oggi loro dicono nell'arco di dieci anni potremmo magari diminuirlo lo spirito dei fratelli Wright secondo me capisci che tu dici la tecnologia mi risolve il problema ecco però uno che direi è piuttosto affidabile e che è questo docente adesso il nome piacevole ma che importante del Politecnico sostiene che non vale assolutamente la legge di Moore quanto riguarda un ambiente come quello nucleare cioè non arriviamo a dimezzare le quantità sotto osservazione in uno spazio di tempo esponenziale e quindi torniamo al discorso che appunto che non abbiamo tempo in qualche modo ecco io vi chiedo scusa di essere stato forse un po' ma noi dobbiamo sapere di non avere tempo cioè noi se entro il 2050 non azzeriamo le emissioni di CO2 questo è l'ultimo messaggio dell'IPCC tra l'altro diffusissimo potete andarlo a richiedere anche ai vostri comuni perché è stato distribuito a tutti i ministeri di tutti i paesi di tutto il mondo se entro il 2050 noi non arriviamo all'azzeramento delle emissioni dovute al carbone al petrolio e al gas la quantità di innalzamento della temperatura supera sicuramente entro il 2050 i due gradi e quindi noi avremmo un innalzamento dei mari che è tale da sommergere che so ben oltre il Mose a Venezia ma già adesso una grande quantità su questo non c'è consapevolezza l'impressione sicuramente c'è consapevolezza laddove questa vicenda è già in corso ad esempio nelle isole del Pacifico si è presa a carico la possibilità che vengano sommerse da qui al 2030 e si è fatto un ricorso alla corte internazionale dell'AIA e la novità se volete è che i tribunali per la prima volta cominciano a rispondere al diritto alla sopravvivenza in relazione al cambiamento climatico è di grande effetto quello che è successo con l'avete letto un po' dappertutto con questa storia delle nonne svizzere no? queste donne anziane si sono fatte carico di chiedere alla corte europea di giustizia di sancire sanzionare la svizzera perché non rispettava il contenimento di emissioni di CO2 previste dal Green Deal europeo e la corte di giustizia ha dato loro ragione e ha stabilito due aspetti del tutto inusuali anche nella storia giuridica la prima è che possono ricorrere su temi come il nucleare come il clima cioè le emergenze che riguardano anche le prossime generazioni possono ricorrere anche a associazioni della società civile cioè quindi queste nonne non sono state riconosciute come Magdalene Afnen e così via ma come associazione delle nonne svizzere così come in Italia il WBF e Recommon oggi ricorrono sui temi della giustizia climatica perché la novità è che la corte di giustizia ha quindi con un valore universale se volete sulla base dei diritti dell'uomo sancito che il ricorso delle associazioni è del tutto accettabile quindi non occorre ricorso individuale che spesso massacra le persone che ricorrono perché poi vengono sanzionate se perdono di fronte al ricorso ma addirittura raccomanda a tutti i tribunali dei paesi europei di accogliere i ricorsi individuali cioè dice a queste nonne svizzere voi avete fatto ricorso e noi ve lo riconosciamo perché come associazione ne avete diritto ma avete diritto adesso di tornare ai vostri tribunali a Zug a Schwitz a Zurigo a Basilea anche singolarmente a chiedere conto dei danni alla salute che viene provocata dal non rispetto di questi limiti e questa è una grandissima novità difatti si è mossa immediatamente ad esempio l'ANED l'associazione dei medici è una cosa che come sempre viene un po' nascosta insomma bisogna dire a Oliver Stone guarda che è successo questo cioè siamo in una fase e in un tempo della storia dove alcuni fatti che erano assolutamente improbabili vengono invece ritenuti non solo possibili ma addirittura sanzionabili importante questa cosa senti io bene prima ritornerei un attimo perché chiedo scusa se io sono un po' no 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 assolutamente no è estremamente interessante va bene così poi siamo assolutamente anche nei tempi però volevo c'era quest'altro tema che era appunto Stone riprende e che comunque vedo che anche la pubblicistica nel fa nel senso che questi nuovi impianti questi nuovi centrali di fatto riutilizzerebbero una parte delle loro scorie o delle scorie prodotte quindi in qualche modo ci sarebbe un problema che ovviamente c'è verrebbe risolto intrinsecamente quindi parliamo di questi che utilizzano appunto una serie di scorie radiattive e anche della scusa dell'autofertilizzazione certo l'autofertilizzazione io ho lavorato proprio per un periodo di tempo come ricercatore proprio su queste ma è una cosa possibile a un'altra di queste cioè ad esempio i francesi hanno smesso hanno chiuso definitivamente il loro reattore autofertilizzante che sembrava una grande promessa perché utilizzando nel ciclo anche il plutonio oltre all'uranio c'era una carica di neutroni che fertilizzava il materiale che era già stato fertilizzato precedentemente si sono resi conto però che era difficilissima da moderare questa reazione e che non uscivano neutroni lenti come nel caso dei reattori che abbiamo in giro per il mondo e che conosciamo ma neutroni veloci che infragiliscono in modo terribile e assolutamente irrecuperabile il vessel il materiale che contiene quindi quei reattori innanzitutto avrebbero avuto la possibilità di ricarica perché c'è un principio di entropia che non è eliminabile che al massimo dava per certa o per possibile la durata di 16 anni di funzionamento ma oltre a questo il sistema di contenimento rendeva così pericolosa la reazione da dovere essere schermata o comunque recuperata di fronte alla possibilità l'incidente allontanando qualsiasi abitazione in racci per cui i piani di emergenza non sarebbero stati assolutamente praticabili in paesi come l'Europa cioè non so il piano di emergenza di Caorso ad esempio aveva se ricordo bene 17 km ecco questi piani di emergenza avevano raggi che superavano i 100 km e quindi avresti saputo dove mettere un reattore e di fatti i reattori autofertilizzanti sono di fatto stati abbandonanti di fatto che cosa l'abbiamo la sappiamo senti l'altra cosa ogni tanto lo vedo perché dai social ogni tanto esce fuori la storia della fusione nucleare se continui a studiare a lavorare su questo poi non avrei particolarmente si può anche fare questo volevo richiamare un punto che non abbiamo ancora detto quando si fanno questi discorsi si parla sempre di fissione cioè spaccare l'atomo per ricavare energia con conseguente produzione delle scorie cioè tutto il materiale di scarto altamente radioattivo molto spesso è qui la domanda di Federico però volevo un attimo fare un passo indietro e introdurre la differenza fra la fissione e la fusione perché molto spesso si dice il futuro sarà la fusione che non avremo più tutto il materiale di scarto dalla fissione allora la fissione è il distacco di un neutrone in un atomo molto pesante quindi difficilmente riscontrabile in natura difatti se ci pensate l'uranio 238 deve essere messo in centrifuga per estrarre quella quantità di uranio 235 che è facilmente fissionabile cioè che rilascia un neutrone che va a riprodurre la reazione a catena e quindi è un pezzo di forza interna al nucleo che viene rilasciata all'esterno e è nettamente superiore alla forza chimica quella che tiene l'elettrone vicino al nucleo quindi è un salto di migliaia di volte la forza chimica la fissione la fusione addirittura è molto molto di più c'è la fusione è vincere la forza tra due nuclei che si respingono cioè due protoni che sono carichi entrambi positivamente da una forza enorme come quella della gravità del sole ad esempio vengono spinti a fondersi e a creare un atomo di edio quindi i due idrogeni che vanno a formare un atomo di elio vanno a formare un vanno a creare una riduzione di massa cioè per la legge di Einstein si emette una grande quantità di energia perché la differenza di massa tra i due idrogeni che si fondono e l'elio che si libera è da Einstein quantificata in E uguale m per c velocità della luce al quadro cioè 300.000 al quadro per la differenza di massa allora anche se è piccola la differenza di massa però è enorme la quantità di energia che viene sprigionata la fusione è il tentativo di costringere sulla terra un fenomeno che avviene nel sole perché il sole è miliardi di chilometri di raggio e quindi ha una forza di gravità spaventosa che permette all'interno ai suoi atomi di idrogeno quattro atomi di idrogeno diffondersi in due atomi di elio sulla terra noi non abbiamo la capacità di tanta forza di gravità e cerchiamo e cerchiamo di costruire un sistema con dei magneti spaventosamente forti che spingano l'uno contro l'altro dei nuclei non di idrogeno perché non avremmo la forza per farlo ma degli isotopi di idrogeno cioè deuterio e trizio vengono spinti l'uno contro l'altro per produrre poi una molecola di elio sulla terra devo dire che non si è mai riusciti fino adesso a produrre una reazione che ridia tanta energia quanta quella che viene indotta perché si inneschi questa reazione cioè su un capello sul diametro di un capello vengono concentrate delle quantità spaventose io ve l'ho lasciata tra le slide che voi avete lì vuoi che vuoi che te la faccia vedere se vuoi è la numero nove la numero undici ecco fate conto che la temperatura io sono stato anche qualche settimana a fare uno stage lì la temperatura sul numero undici vedete quei enormi magneti sono all'interno di uno stabile che è alto grosso modo 40 metri vedete lo mino come è piccolo lì di fianco e hanno un diametro di circa 20 metri e riescono a raggiungere 100 milioni di gradi su diametro infinitesimo e subito dopo si spegne però questa reazione perché la quantità di energia che bisognerebbe dare per continuare questa reazione non viene ridata indietro cioè vi faccio un esempio se ne è parlato tanto in America in un laboratorio militare 23 grandi laser ma laser potentissimi si erano concentrati su una piccolissima piccolissima nel senso proprio di quasi invisibile goccia d'oro per vedere se era possibile che si raggiungesse una quantità di emissione di energia concentrando tutta l'energia di 24 grandi laser per avere un bilancio positivo è la prima volta che questo bilancio è stato ottenuto cioè per un miliardesimo più o meno di secondo c'è stata una risposta in energia pari a quella in entrata ma poi i laser si sono dovuti raffreddare per due giornate intere quindi è un esperimento che ha un valore del tutto come si può dire anedotto teorico un teorico importante se volete ma del tutto non ricostruibile ecco cioè i 24 laser per funzionare hanno richiesto una quantità spaventosa di energia cioè probabilmente come tutta l'energia di tutta la Lombardia per puntare su un piccolissimo elemento Auro che ha ridato per una quantità molto piccola la stessa energia che gli era fornita ma poi hanno dovuto spegnere i reattori naturalmente i laser naturalmente quella però vi dico una cosa che è curiosa e che fa parte un po' delle domande che mi avevate un pochino mandato sono militari gli interessi che si muovono attorno alla fusione perché in effetti la bomba la seconda bomba quella che scoppia su Nagasaki è una bomba a idrogeno cioè è una bomba in cui una bomba a plutonio scoppia e fa esplodere una palla di idrogeno che amplia a questo punto per fusione la potenza estera quindi sono i militari che hanno un grande interesse questa cosa qui ad esempio di far convergere i laser era un'idea che anche questo slideshard aveva proposto a Oppenheimer quando costruivano la bomba la prima bomba che viene sganciata e Oppenheimer si rifiuta di prendere in considerazione la bomba a idrogeno e invece la bomba idrogeno poi viene Teller in modo particolare il gruppo ungherese che faceva parte del gruppo allo Salamos continua su questa strada e costruisce la bomba idrogeno bene senti io vorrei finire con te se sei d'accordo un'esperienza che io inserirei tra quelle delle partite vinte si si parla appunto degli ambientalisti quelle delle partite perse perché diamo una continuazione invece in realtà abbiamo tutta una serie di esperienze positive di partite che abbiamo vinto insomma siamo andati contro tutti ma le idee erano valide e ci siamo riusciti una di queste proprio riguarda Civitavecchia e ce la racconti da dove siamo partiti dove stiamo arrivando come peraltro ci siamo arrivati io tra l'altro mi chiedo scusa perché forse sono un po' c'è un conte quando si parla a contatto così ho sempre il timore di non essere abbastanza forse erano qualche difficile spero di poter tutti Civitavecchia sono nettamente a mio agio anche perché allora grosso modo subito dopo l'uscita dell'enciclica quindi di otto anni fa è giusto più o meno io vengo invitato da presidente della Casa della Carità di Milano che è Don Colmenia a commentare o a costruire un gruppo che si occupi della novità del racconto della Laudato Si cioè lui dice anche da un punto di vista religioso io ripeto a lui e lui lo sa benissimo perché avevamo lavorato assieme che io non sono assolutamente un credente quindi lui dice che proprio per questo occorreva cogliere la straordinaria novità che interviene e allora cominciamo a lavorare e scriviamo grosso modo con un gruppo che si continua a ritrovare di 200 persone che cicla ritorna riscrive e poi scriviamo un libro che viene inviato anche al Papa insomma il Papa ritiene questa cosa interessante e chiede in questo caso a me perché ero per caso un po' il presidente di tenere una lezione alla loro università alla pontificia una cosa molto strana anche per me molto però quelli che sentono questa lezione attraverso sono a Civitavecchia e mi chiedono se al ritorno posso fermarmi a Civitavecchia a Civitavecchia ci sono due comitati di cittadini che sono per la chiusura della centrale a 2000 megawatt a carbone e per la non sostituzione come invece era stato deciso già dal PNIEC e quindi dal ministero da Cingolani in questo caso di forse nemmeno Cingolani era avvenuto addirittura prima comunque l'Eni aveva deciso di trasformare questa centrale a carbone che era dell'Enel in una centrale turbogas da 1840 megawatt gas naturale e intanto l'Eni stava già costruendo una condotta che arrivava a Civitavecchia la città reagisce prima attraverso i comitati poi per questa mia strana commissione io mi metto in contatto con il sindacato locale con i lavoratori della centrale e anche con il vescovo che segue questa vicenda e la città si infiamma su questa cosa e l'elemento decisivo è che a un certo momento i 250 lavoratori in centrale più i 400 lavoratori dell'indotto decidono di scioperare per due giornate e due turni di seguito e lo sciopero riesce benissimo la città chiude i negozi e prende questa cosa come un ottimo segnale e un gruppo di ricercatori voi avete dedicato a Scalia credo ecco io coinvolgo immediatamente Scalia poi Sorokin anche gente dell'Enea e della Sapienza Silvestrini il WWF e a tutti viene in mente di provare in una situazione come quella di Civitavecchia dove c'è una città essenzialmente turistica e commerciale provare invece a tener conto che lì c'è il mare tia vento che si potrebbero porre delle pale a una distanza sufficiente da non essere turbative e che poi tutte le banchine del porto potrebbero essere ricoperte di pannelli fotovoltaici e che le navi che attraccano lì da crociere invece di dovere essere durante per due tre giorni alimentate a gasolio e con incominio potrebbero invece prendere dall'idrogeno che viene prodotto dai pannelli e dai pannelli stessi e quindi muovere anche i muletti per il carico e lo scarico e si fa il conto che basterebbe per la città e per questo 750 megawatt anziché 1840 a questo punto nasce una obiezione immediata da parte dell'Eni dice beh ma noi vogliamo avere una riserva di potenza perché siamo vicini a Roma e allora se c'è un blackout a Roma noi dobbiamo avere almeno 1800 megawatt a disposizione su questo tutto il gruppo si mette a studiare e si rende conto che è facilmente sostituibile quella potenza con bacini d'acqua quindi si distribuisce il consumo pensando che la fase successiva sarà quella di costruire comunità energetiche anziché distribuire reti che viaggiano per cento chilometri per servire ad esempio le cabine primarie a Roma o così e quindi siamo in una dimensione di ricostruzione di tutto il territorio a questo punto viene in mente ad esempio che la tratta ferroviaria che da sempre si vorrebbe che congiuggesse Orte quindi la direttrice centrale che va a Roma con il Tirreno potrebbe essere alimentata da treni a idrogeno ad esempio e in effetti il conto su i treni a idrogeno che ormai la Germania ha portato avanti soprattutto attraverso Siemens e altre incominciano a rispondere a bilanci positivi tant'è vero che una prima sperimentazione dovrebbe essere in gioco o in corso già sulla linea che da Milano congiunge la Valle Camonica cioè si sta cominciando a pensare ai consumi e a valutare come sarebbe utile o no il bilancio di una tratta ferroviaria alimentata direttamente dall'idroelettrico della Valle Camonica e da altri riservi di combustibili io scusa di idrogeno che entrano in questo caso nelle pile idrogeno ma la cosa di Civitavecchio è abbastanza interessante se volete è che il comune di Civitavecchia all'inizio non era assolutamente d'accordo su questa cosa quando la città coralmente si muove il comune decide di stare dalla parte del sostegno di questo nuovo sistema e la regione Lazio a quel punto con una giunta credo fosse Zingaretti Lombardi i due che erano decide che il piano regionale della del Lazio non contempla più come si chiama turbogas di quella potenza e quindi cancella per sempre e quindi Civitavecchia ci vorrà adesso credo che il problema che noi dobbiamo sempre avere chiaro è come quando anche inaspettatamente si vince perché io non mi aspettavo che questa cosa riuscisse così bisogna seguire però tutti i passaggi intermedi su cui chi è contrario si può inserire facilmente ad esempio adesso il ministero continua a ritardare l'approvazione di questa e quindi ritarda i tempi perché bisogna mettere delle palle galleggianti ancorarle e fare e quindi non so se si chiude nel 2025 bisogna trovare la quadra di occupazione prima che parta un sistema che avrà ancora di più noi facevamo il conto che rispetto ai 170 addetti al turbogas il sistema che stiamo costruendoci vita vecchia avrebbe comportato a partire dalla manifattura quindi anche la cosa grosso modo 1600 occupati cioè questo è un conto su cui ha lavorato Scalia anche e su cui ci siamo più volte sentiti e anche l'innovazione che ci sarebbe dietro mi pare una cosa estremamente importante io credo ad esempio che questo governo dovrebbe davvero avere altri criteri per lavorare attorno cioè noi raccontiamo delle storie incredibili cioè continuiamo a non far partire le rinnovabili nei luoghi dove abbiamo non solo tutto a disposizione ma dove l'occupazione viene meno pensate se l'ILVA fosse investita dall'idea di fare le pale eoliche con i forni elettrici e non più con il rottame con il coq eh con il carbone da coq che riempie la e noi siamo a un punto di di difficile ma perché è molto forte la lobby che ha sostenuto questo film quindi per questo io sono molto contento che voi abbiate fatto un lavoro di questo genere perché eh il il convincimento non è un fatto ideologico è un fatto che invece è legato alla consapevolezza che siamo in una fase di emergenza cioè oggi non possiamo credo separare neanche un po' la guerra dall'atomica e dal clima cioè io raccontavo questa assemblea dove c'erano tra l'altro due operatori bolognesi che un giorno di guerra in Ucraina emette in CO2 la stessa quantità grosso modo di emissione di un intero anno di tutta la provincia di Bologna questo per dare un'idea di come stiamo impazzendo insomma come cioè hai fatto bene a ricordare che noi sbagliamo a volte a non essere come beh non trovo la parola ecco perché forse diamo per scontato che tutti abbiano le stesse informazioni cosa che non è vera no? certo e non solo ma l'informazione ad esempio nega il trasferimento di questi risultati ad esempio il messaggero ha per la prima volta fatto un articolo sulle pagine nazionali su Cività Vecchia che chiude col carbone perché per quattro anni non c'è stato verso potevamo scriverlo sul fatto potevamo scriverlo sul mio post su la rivista che aveva il WWF oppure ecco ma il Corriere della Sera ha cominciato a parlare di Cività Vecchia soltanto un mese fa e quando non so tutti avevano chiaro che cosa che cosa stava succedendo a partire dai da qualche migliaia di lavoratori pensate che la Camera del Lavoro di Cività Vecchia con una notevolissima segretaria una donna ha fatto il suo congresso su questo tema sulla futuro occupazionale e sul futuro come si può dire territoriale non più a vocazione fossile tra l'altro in una zona dove a pochissima distanza c'è tutta l'Etruria ci sono le cose più belle del mondo magari che vengono superate da autostrade e da buchi di traforio insomma mi pare che qualche domanda se vuoi scusa pensavo di andare con due domande che sono in chat devo darti la parola su questo dimmi Marco chiedeva la tratta ferroviaria di cui parlavi non è elettrificata forse no? non è elettrificata no è una tratta diesel quella che va da Minano da Brescia ecco ho addirittura da Brescia a Breno fine della Valle Camonica è una tratta diesel questo è importante certo e invece Enzo si riferisce torna a Civitavecchia e chiede se non erano previsti anche degli elettrolizzatori sì viene previsto e questo è già credo finanziabile da un progetto europeo che era stato portato avanti da un gruppo che ha lavorato o lavora tuttora all'Enea c'è un progetto di un grosso idrolizzatore che viene alimentato dal dal non tanto dall'eolico ma soprattutto dal fotovoltaico che sarebbe sistemato sopra il porto forse un'idea anche per Genova tra l'altro io credo che Genova sia assolutamente da guardare credo che Genova sia un territorio straordinario per la possibilità perché pensate alla Liguria che razza di di clima con continui rovesci ecco contenere questa distruzione del territorio adattando ad esempio la grande quantità di energia distruttiva a un'energia invece sicuramente non ferale sarebbe cioè io credo che Genova e la Spezia siano due luoghi di fondamentale importanza e vado certamente da questo punto di vista bisogna molto prestare attenzione al fatto che il piano Mattei a mio giudizio è invece il veicolo per portare più gas cioè allora ha un chedi obiettabile insomma già sul terreno dell'emigrazione perché è un tentativo di coordinare dicono così ma di fatto di bloccare i flussi e d'altra parte di sancire attraverso il finanziamento di pozzi petroliferi e di gas l'estrazione di gas liquido che viene poi messo nei rigassificatori quindi noi adesso abbiamo mi pare sette rigassificatori in Italia l'idea preoccupante è che noi ci troviamo di fronte al fatto magari che si chiudono le centrali a carbone ma ci troviamo dei rigassificatori dove tra l'altro poi durano vent'anni questi impianti e quindi noi non usciamo mai dal fossile c'è un gruppo molto vasto che si occupa di nori gas mi pare si chiama e credo che sia beh anch'io ne faccio parte non ci mancano gli argomenti da affrontare i problemi da risolvere sto pensando che questa cosa delle nonne svizzere potrebbe essere come dire una delle chiavi di volta della situazione cioè denunciare tutti coloro che stanno ostacolando e il nostro governo sicuramente lo fa il cambiamento che invece è necessario e devono pagare noi più a Genova avevamo le colonne infame no le vere proprie colonne che immortalavano il nome di quelli che avevano fatto dei disastri nelle scelte della città ecco c'è un'idea di rinnovare questa cosa perché non è possibile tra l'altro i problemi li sappiamo sono un problema che riguarderà l'intera umanità e non solo che ci sia una classe politica che non abbia capito che ostacoli non è accettabile i cittadini devono che l'hanno capita devono in qualche modo assolutamente e nella mia esperienza ad esempio la reattività dei cittadini oggi è molto più elevata mentre è più rigida la contrapposizione dei governanti cioè gli interessi delle grandi corporation si sono immediatamente rivolti ai governi i cittadini hanno questa possibilità adesso dopo una sentenza di questo genere di rivolgersi attraverso le associazioni alla però è importante informazioni quelle corrette come stiamo cercando di fare con i nostri strumenti insomma assolutamente modesti ma che possono veramente credo che voi se avete rapporti con legambiente e con beh io ricordo che c'era un uno si chiamava Zumino forse un nome così un assessore ancora ai tempi in cui c'era una giunta di centro-sinistra in Liguria si si lo conosco certo ecco lui credo che fosse molto interessato avevamo lavorato molto io dalla Lombardia e lui dalla Liguria soprattutto su Vado e su Spezia dobbiamo riprendere magari questi contatti e vedere un po' perché poi i problemi ce li abbiamo stiamo cercando di affrontarli anche come Ecoistituto anche in collaborazione con lo zenzero con questa cosa che stiamo facendo informazioni ecco tra l'altro l'Ecoistituto se vuoi ha una sua appendice anche in Lombardia l'Ecoistituto del Ticino infatti stiamo cercando anche di fare un pochino più massa critica con gli Ecoistituti che invece vanno un pochino ognuno per conto suo ma guarda che è così per tutti è una fortuna che ci incontriamo ogni tanto perché non so io vado in giro e mi dicono ma c'è una Lovato sì anche qui ma chi l'ha mai vista chi ormai non ci siamo mai sentiti e questo è sorprendente no? un giorno sono andato beh poi se questa diventa pubblica è inutile dire i posti diventa pubblica però sono andato in un posto diventa pubblica appunto ma sono andato in un posto del milanese dove 14 associazioni si incontravano in un locale sottratto alla mafia e consegnato al CAI e si incontravano per discutere sulla sostenibilità energetica nel loro territorio e lì è partita un'idea di non so che va dagli agricoltori biologici fino ai ciclopedalatori fino alla copertura dei supermercati che lì sono una cosa spaventosa come d'altra parte gran parte del l'innovazione di Ligure no? sì ma su queste cose Marco ci segnala che è in corso un processo contro Eni da parte di Greenpeace è vero il Recomo e una trentina di associazioni però se non sbaglia al primo grado la magistratura si è tirata fuori e credo che siano molto molto forti quelli di Recomo io ho avuto contatti con loro e credo che loro siano assolutamente coperti anche dal punto di vista legale se volete un consiglio occorre muoversi con una massa molto solida alle spalle perché anche il fatto che tu poi possa essere singolarmente condannato perché perdi la causa uno si trova addosso voi vi trovate come zenzero addosso non potete avere 20.000 euro da pagare capisci perché non so è successo così io sto seguendo in questo periodo le questioni delle armi nucleari a Ghedi e lì abbiamo mosso un gruppo europeo di giuristi e loro si muovono con una grande grande circospezione perché dopo questo sono loro che ci hanno comunicato questa cosa delle donne svizzere perché loro faranno adesso capo chiedono se sia costituzionale la permanenza di bombe nucleari sul nostro territorio in base all'articolo 11 della costituzione e naturalmente devi essere molto forte nella tenuta nella argomentazione e anche nella massa di persone che se ne occupano è quello che stiamo cercando di fare anche noi qui a Genova cioè di mettere insieme tutte queste associazioni e ci stiamo in parte riuscendo l'obiettivo proprio di questi giorni è quello della lotta ai fumi delle navi del porto che è un problema che ci accomuna ovviamente alla Spezia e Savora e anche le altre città portuali però secondo me è una strada che stiamo percorrendo e sta portando dei risultati al solito c'è una classe politica sorda perché probabilmente è stata selezionata per non occuparsi nella migliore delle ipotesi sorda sì sì però vabbè diciamo così sta cosa se non rema contro e l'idea della massa critica di cittadini informati e poi tra l'altro è quello che ci sta muovendo per organizzare queste conversazioni che vedo tra l'altro stanno avendo anche parecchio successo perché l'idea anche di registrarle mandarle in rete è un'idea che sta funzionando abbiamo centinaia e centinaia di accessi che è una cosa insperata per noi insomma e quindi penso che anche questa tua conversazione immagino che anche essa avrà altrettanta e poi ci sarebbe anche uno che sta a spingerla senti se non ci sono altre domande io chiuderei qui tenderei a farvi vedere la prossima perché poi sono le 7.20 fra un po' arriva figlio e nipoti di Mari la prossima conferenza sarà a maggio vedremo con noi Ugo Bardi Ugo Bardi molto bravo il 22 maggio chiuderemo questo miniciclo sul nucleare che quest'anno ci ha portato a suggerirvi di guardare il film di Oliver Stone per cercare di smontare questo grande inganno che ci viene periodicamente proposto abbiamo già abbastanza traumi da non doverne avere di lasciare per le prossime generazioni soprattutto io ringrazio Mario ringrazio anche Maria Teresa perché vabbè non state difficoltà anche io ringrazio Mario scusa non l'ho detto grazie a voi grazie a parte di tutti una buona serata a voi ringraziamo anche Cristopher Garaventa che appunto farà tutto il lavoro di montaggio e anche Carlo Assessargo che ha curato sempre al solito suo molto bene la grafica delle nostre località sono bellissime tra l'altro io le ho messe su Facebook con